Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e in questo video andremo a vedere come salvare gli outfit o comunque i completi del bodyguard o meglio della guardia del corpo del cielo come in questo caso quello che sto indossando io o altri tipi di questo tipo insomma no, altri tipi di questo tipo, insomma che cazzo vuoi vabbè, e niente, allora a questo punto il vostro amico deve diventare CEO e vi deve fare suo associato per salvare questi completi poi dovrà andare nella voce investitore d'oltreoceano e lì ci saranno altre voci quindi andrà a selezionare il vostro nome e metterà milizia che in questo caso troverete questi completi qui, quelli che state vedendo e l'altro ragazzi non mi ricordo difesa ragazzi, difesa, scusate ma sto un po' di incoglionito difesa, in questo caso metterà il giubbotto o antiproiettile pesante, quello che avete visto lo metterà nero poi ci sono anche altri completi che si possono recuperare in giro ragazzi sempre nelle guardie del corpo del cielo, quelli scoprite di voi e in quel caso lo fate allora a questo punto il vostro amico dovrà mettersi su gestione e dovrà andare per buttarvi fuori voi gli date un segnale tipo 3, 2, 1 e un secondo prima che pronunciate l'uno dovrete premere la freccia per entrare in doccia quando pronuncerete uno il vostro amico vi dovrà buttare fuori vi dovrà espellere dalla sua organizzazione quindi adesso andiamo a vedere il mio amico mi ha espulso come avete visto mi ha dimesso come associato insomma una volta fatto questo premete per uscire dalla doccia uscite dalla doccia e se tutto è andato bene ragazzi avrete il completo salvato non è molto difficile da fare dovrete solamente trovare un po' di sincronia tra voi e il vostro amico per salvarlo andate nel vostro ufficio CEO e lo potete salvare poi potete cambiare tutto il resto come cazzo vuoi fare insomma no tutto il resto tranne ovviamente la maglia e il giubbotto insomma anche perché se cambiate il giubbotto perdete tutto è quello che volevate quindi in quel caso andate a cambiare quello che volete io adesso per esempio vado qui e cambio non so il pantalone perché non mi piaceva comunque come avevo fatto prima e adesso lo vado a rifare metterò un pantalone di pelle con lo stivalone ragazzi quindi ricordate quando voi siete in doccia ragazzi contate 3, 2, 1 mentre che state comunque per contare l'1 premete la freccia per entrare in doccia e all'1 il vostro amico dovrà congetarvi dal suo CEO sicuro è abbastanza semplice da fare come glitch c'è anche un altro glitch che serve per salvare i completi da CEO però insomma lì salverete il giubbotto sempre quello pesante con le tasche però diciamo col maglione rosso che non è un gran che però c'è qualcosa pure lì da salvare si possono anche salvare i pantaloni beige i joker beige farli senza diciamo con le caviglie invisibili come ce l'ho io e cazzi e mezzo ragazzi spero che il video vi sia utile che vi sia piaciuto lasciate un like un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti ciao